Buongiorno a tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, grazie Presidente. Allora, io credo che con questa delibera l'Assemblea Capitolina inizia un percorso, un percorso che è stato chiesto da tutti gli elettori, soprattutto coloro i quali hanno desiderato e hanno profondamente creduto in questa azione di rinascita della città, in cui si comincia a dare una risposta al grande problema che conosciamo bene e che ha visto anche dei provvedimenti governativi molto forti che hanno portato la gestione del debito di Roma Capitale nelle casse o all'attenzione del Ministero dell'Economia e Finanze. Parliamo della gestione commissariale e del problema dell'arretrato debito che fino al 2008, o meglio per essere più esatti, fino al 28 aprile del 2008 è transitato dalla gestione ordinaria del Comune di Roma alla gestione straordinaria o commissariale del Governo, attualmente presieduta dal commissario straordinario Silvia Scozzese, nonché ex assessore al bilancio del Comune di Roma. Quella mole di debito, ripeto, è una mole di debito che non è nella disponibilità di questa amministrazione. Abbiamo promosso più volte, io stesso anche in maniera informale, con il commissario straordinario, l'operazione analoga che oggi andiamo a discutere perché ricordo sempre che i debiti hanno una storia e hanno una storia che risale anche a diverso tempo fa. Ecco, quindi noi la nostra parte la stiamo facendo. Questa amministrazione, sulla base di una circolare, la 1287 del 12 aprile 2017, della Cassa Depositi e Prestiti, che aderisce ovviamente a quelli che sono i principi enunciati dal Governo, sulla necessità di rilanciare l'aspetto finanziario, soprattutto delle amministrazioni locali, per ridurre l'incidenza degli oneri finanziari, mediante operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito, vengono e trovano una loro concretizzazione in questa delibera. Abbiamo ritenuto quindi importante dare la possibilità a tutti i cittadini di conoscere esattamente anche quali sono le operazioni che abbiamo attenzionato. In particolare ci stiamo attenendo a 75 posizioni di mutuo che sono state gestite dalle casse capitoline in gestione ordinaria e che rispondevano a un debito residuo al 1 luglio 2017 di complessivi 537.883.197,91. Parliamo di 51 posizioni regolate a tasso fisso e 24 regolate a tasso variabile. Questa rinegoziazione che stiamo qui approvando con questa delibera riguarda quindi la totalità dei muti elencati e comporterebbe per Roma Capitale un esborso in quota capitale, quindi una riduzione dell'esborso in quota capitale per complessivi 9.865.221,61 calcolati al 31 dicembre 2017. Questa operazione verrà effettuata e verrà quindi proposta secondo il principio dell'equivalenza finanziaria dove appunto le economie derivanti da tale minore sborso in linea capitale saranno appunto devoluti e saranno utilizzati per la negoziazione di tale debito secondo la normativa vigente l'articolo 1,440 della legge di bilancio 2017 e dalla legge numero 11 del dicembre 2016 numero 232 che sarebbe quella relativa al decreto legge 78 del 2015. Quindi sono diversi i provvedimenti che rispecchiano tale operazione. Possono essere quindi utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Quindi tali importi saranno quindi a beneficio dell'amministrazione. Ecco, il provvedimento quindi si inserisce all'interno di un ampio ragionamento che stiamo portando avanti come amministrazione sia sulla parte, noi la conosciamo bene, quella legata ai debiti fuori bilancio quindi cercare di rimettere ordine anche a questo complesso di posizioni che non sono state gestite dalle precedenti amministrazioni e che oggi noi ci troviamo a dover necessariamente onorare anche per evitare ulteriori contenziosi che appesantiscono o potrebbero appesantire la tenuta dell'equilibrio finanziario dell'ente e dall'altra parte produce un beneficio in termini di spazi finanziari. Quindi riteniamo che questa operazione non soltanto intercetta quelle che sono attualmente le dinamiche di mercato che ben conosciamo e sappiamo bene che i tassi di interessi hanno al momento un andamento estremamente vantaggioso non soltanto per gli enti locali ma soprattutto per l'amministrazione centrale perché anche l'indebitamento forte che lo Stato italiano ha viene beneficato dalla presenza di questi tassi di interesse vantaggiosi. Quindi si ripercuote tale beneficio anche sulle amministrazioni locali che necessitano sempre di nuove risorse soprattutto per avviare quelle opere di risanamento e di investimento di cui l'amministrazione necessariamente soprattutto quella capitolina necessita. Quindi riteniamo che questa iniziativa rienti proprio in un più complesso provvedimento di risanamento dell'amministrazione e ci auguriamo che tale iniziativa trovi riscontro anche da parte del Commissario straordinario sulle sue posizioni proprio in quell'ottica di miglioramento delle posizioni finanziarie nette dell'amministrazione vista in senso consolidato. Ecco, su questo abbiamo certamente una forte convergenza di interesse e credo che sia una convergenza di interesse oltretutto comune perché ricordo che i provvedimenti richiamati in delibera sono provvedimenti di legge quindi sono provvedimenti governativi che sono stati quindi votati anche da maggioranze diverse da quelle rappresentate anche all'interno di questa di questa assemblea e producono quindi un un effetto assolutamente positivo e auspicato da tutti proprio nell'interesse pubblico. Grazie. Grazie.